Tutte le imprese sono iscritte al Registro delle Imprese, un anagrafe che annota la loro storia. Il Registro delle Imprese è una banca dati pubblica, informatica, nazionale, accessibile da chiunque sia interessato. Tutti i cittadini possono consultarla, prendere visione di atti, farsi rilasciare certificati, copie dei documenti, elenchi di aziende e visure. La visura è la carta di identità dell'impresa, contiene i suoi principali dati anagrafici ed economici, permette di ottenere informazioni sul nuovo cliente, un parne commerciale, un fornitore in tutta Italia. Tutti possono richiederla online attraverso il sito registroimprese.it. Per chi opera con l'estero, le visure sono disponibili anche in lingua inglese. Le domande al Registro Imprese vanno inviate tramite Telemaco, che è il servizio online della Camera di Commercio, utilizzando un dispositivo di firma digitale. Per consulenza e assistenza su questi temi, il Registro Imprese è disponibile direttamente con personale allo sportello, tramite il contact center telefonico e con un sistema di assistenza online. Ma i servizi digitali per l'imprenditore non finiscono qui. Il SUAP è lo sportello unico di contatto tra imprese e pubbliche amministrazioni per le attività produttive. Nei casi in cui il SUAP sia gestito dalla Camera di Commercio, tutti i documenti finiscono nel fascicolo dell'impresa. E con il cassetto digitale, ogni imprenditore può accedere gratuitamente da PC, smartphone e tablet al suo fascicolo, oppure vedere e scaricare i documenti della propria impresa, aggiornati in tempo reale. Registro delle imprese, sempre più servizi digitali, un solo punto di riferimento sicuro. Registro delle imprese, sempre più servizi digitali, un solo punto di riferimento sicuro. Grazie a tutti.